virus fit ginastica dolce con alcune parti metodologia pilates proviamo e iniziamo in piedi tenete vicino voi anche una sedia appoggia bene il peso apertura tale quale l'apertura delle tue anche circondizione respira libera sciolgo bene 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 in avanti stesso lavoro controlla bene l'appoggio delle tue piante dei piedi bene il tuo bacino come sempre mento esterno cresci con la nuca bene verso il cielo e mi fermo salgo inspiro espirando accompagna e torna allungati bene ancora 4 3 2 1 ritorniamo bene frontale e ritorno allunga e ritorna allunga ancora per 4 e 3 e 2 rimaniamo bene su in alto continuiamo con le nostre circondizioni inspiro e spira e spira e controlla il tuo bacino pianta del piede forte inspiro e butto fuori gambe leggermente leggermente piegate per 4 e 3 e 2 bene 1 rimani frontale controlla l'allungamento delle tue braccio delle tue braccia come sempre mobilità del tratto scapolare avvicino e inspira allunga e allunga e piazza del piede forte ultimi 4 3 e 2 mantieni il tuo allungamento palmo della mano attivo vomito spalla piego giustendo lavoro un po più dinamico in occhio al tuo ombelico bene il bacino ancora 4 3 2 bene 1 muta bene fuori l'aria e scarica completamente la linea delle braccia sali 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 su verso il cielo tutto in avanti palmo della mano della mano sulle tue ginocchia e stessione completa braccio e schiena espirato ritmo pelico in arco in come sempre risottiate bene il vostro pelico allungo e spiro 4 e 3 e 2 ultima inspirazione butta bene fuori l'aria e abbandona il peso di sua terra lentamente controllo ritorno controllo apertura e chiusura pinco e chiudo come sempre bene l'esterno bene la chiusura apro e chiudo aiutati bene con il palmo della tua mano e con le tue spalle per 2 bene per 1 ritrova la tua musizione neutra centrale iniziamo i nostri piccoli molleggi come sempre il lavoro parte sempre bene dalla crescita superiore della tua spalla il molleggio dinamico completa tutto la linea del tuo braccio fino alla punta estrema delle tue dita piccoli molleggi ancora ricordati inspira bene attraverso il canale delle tue narici espira butta bene fuori l'aria risucchiando il tuo manico attraverso il canale della tua gola continuiamo ancora per 4 e 3 e 2 bene 1 punto fuori l'aria mi fermo manico e spiego sul mio cinocchio suggerita un bel scopo pianta dei piedi forti rilassa le tue spalle cresci filo trasparente continuo ancora 4 e 3 e 2 e bene 1 ritorna bene nella tua linea appoggio appoggio cerca di divaricare completamente l'appoggio dei tuoi piedi punta bene verso l'esterno un semplice affondo prepariamo la nostra discesa salgo scendo ombelico attivo forza 4 3 2 bene 1 congela rimani giù piccoli molleggi pianta del piede forte ombelico attivo piaccia più che puoi piccoli molleggi 8 7 6 5 4 3 2 bene 1 lentamente mi fermo estensione completa attiviamo le nostre braccia isoliamo il nostro tronco perdemolio lato destro lato sinistro spingo controlla il tuo respiro ombelico attivo Allunga il lato destro e il lato sinistro. Per quattro. E tre. E due. E bene, uno. Lentamente mi fermo. Piega bene la tua gamba destra. E ritorna. Scivola. E ritorna. Isola il tuo tronco e le tue braccia. Affondo. E ritorno. Ancora per quattro. E tre. E due. Bene, uno. Rimaniamo giù nel nostro affondo. La tua gamba apposta. Si piega. Piede a taglio. Piede in punta. Appoggia il tuo avabbraccio. Allunga, cresci. E rimaniamo in posizione. Cerca di spingere il tuo braccio bene verso l'alto. O in linea con la tua nuca. Per quattro. Tre. Due. Ritorno lentamente. Ritorna nella tua linea. Controlla il tuo affondo. Cambio gamba. E quattro. E tre. E due. Bene, uno. Ritorniamo nel nostro affondo. Rimani giù. Piede in punta. Controlla l'avambraccio. Allunga il tuo braccio. Rimani. E quattro. E quattro. Allungo bene. Tre. E due. E lentamente torno. Controllo. Uniamo. Uniamo. Manteniamo unite le nostre piante dei piedi. Cresci con le tue braccia. Allungati bene verso il soffitto. Unisci il palmo della tua mano. Mantieni bene questo allungamento. Inspirando ed espirando. Lascia cadere giù il tuo tratto scapolare. Nella tua ultima espirazione. Spingi il tuo sterno in avanti. Allunga ed estendi le tue braccia. Posiziona le. Alla punta estrema del tuo alluce. Rimani qua. Piego le gambe. E stendo. Piego. E stendo. Aggiungo anche la mia schiena e le mie braccia. Allungo. E torno. Per quattro. E tre. E due. Bene. Uno. E l'ultima estensione. Lascia cadere il mio peso in quadrupedia. Rimaniamo un attimo nella nostra quadrupedia. Appoggia bene il tuo peso. Cup stretch attivo e in alto. Ultimi quattro. Allungati bene. E due. Bene. Uno. Ultima espirazione. Lascia cadere un attimo il tuo tutto in direzione dei tuoi talloni. Allunga bene braccio destro e braccio sinistro. Rimanete in questa posizione. Almeno per dieci respirazioni. Controllate il vostro appoggio. Controllate il vostro abbandono. Sì. Vostra ombelicola. Vostra respirazione. Completate sempre attraverso il passaggio fluido della respirazione. Ispirando dalle narici. Ispirando attraverso il canale della gola. Completiamo la respirazione e di qui lento e graduale il nostro passaggio. Pizzico bene il mio avampiede. Palmo della mano vicino alle mie ginocchia lentamente. Trottoliamo e una vertebra per volta che sale su. Ritroviamo di nuovo il nostro appoggio. Ritroviamo di nuovo la nostra linea. Braccia di nuovo attiva e riprendiamo i nostri colleggi. Inspiro. Espiro. Attiviamo per quattro in. Tre in. Due in. Ultima. Inspirazione. Vostra bene fuori l'aria. Lentamente. Mi fermo. Trottiamo la nostra sedia. La giriamo. La utilizziamo come base di appoggio. Controlliamo la nostra linea. Il nostro tallone spinge bene verso l'alto. Contrazione del gluteo. Contrazione del nostro ombro. Contrazione del nostro ombro. E slant. Ancora. Ne facciamo ancora dieci. E nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Viene uno. Va bene. Scegli quella che vuoi. Viene a marcello. Piccoli sono i modelli. Ascolti il tuo ombrico. Se vuoi in questo lato. E puoi anche imparare le braccia. Libera. Quattro. E' un po' di più. 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 Uno. Quattro. Tre. Due. Uno. Rimani qua. Guarda. La tua gamba si appoggia. La tua gamba frontale si spiega. E' un po' di più. Cinque. Quattro. Tre. Due. Bene. Uno. Rimango qui. Appoggio il palmo della mia mano sulla teglia. Da questa posizione prendo forza. Sali al mio ginocchio. E' un po' di più. Spingo. E' un po' di più. 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 Si appoggia. Si piega. Si distende. Sale. E' quattro. E' tre. E' due. Bene. Uno. Voilà. Complichiamo un po' l'esercizio. Rimaniamo nella nostra base di partenza. Assunta bene le tue braccia. Questa volta senza stella. Salve. E' due. Se perdi ovviamente i tuoi punti, appoggia con un braccio. Voi spingiamo il suo pensiero. E' un po' di più. 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 Bene. Ultima espirazione. Siamo qui. Ritrovo di nuovo il mio appoggio. Salgo e scendo. Vai. Un po' più dinamico. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Bene. Uno. Congelo e piccolo. Andai che ci siamo, sono 4 e 3 e 2, bene 1, di nuovo chiudo, chiudo completamente, unisci le tue piante dei piedi di nuovo, sali su verso l'altro, rilassa le tue spalle, spingo lo sterno in avanti di nuovo, ritrovo la posizione di prima, tensione, piegamento, salvo e torno ultimi 4, 3, 2, ultima ispirazione, ritrovo lentamente e riscogliamo, completiamo l'esercizio con l'altra gamba, riprendo lo slancio di entrambe le gambe, tallone recupera il tuo respiro, pensa che cosa cucinare stasera, decidi che tipo di dolce fare per spacco, un po' spacco, ultimi dai slancio, ultimi 4 e 3 e 2, rimane sulla gamba, ovviamente quella diversa rispetto a prima, spalle, occhio a non cedere peso completamente sulla tua sedia, solo un appoggio, 4, 3, 2, come prima, se vuoi puoi staccare, 4, 3, 2, bene, 1, appoggiamo, gamba frontale si piega, gambe, braccia, ora scendono sotto, alluta bene la linea, il peso è sulla gamba frontale, 4, 3, 2, bene, 1, ritorniamo nel nostro appoggio, occhio di qui, sale il nostro ginocchio, torna, prendi bene gli spazi, guarda è la gamba questa qui sotto che spinge verso il soffitto, verso il cielo, ultimi, controlla bene la meccanica, e 3, e 2, bene, 1, ritrovo, appoggio senza segna, ultimi 4 e 3, 2, bene, 1, e l'ultimo appoggio di nuovo, ci ritroviamo qua, piego e distendo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani giù, piccoli molleggi, schiaccia, schiaccia, 4, S, 3, S, 2, S, bene, 1, lentamente, avvicino, controllo, mantieni bene il tuo appoggio, inspiriamo, abadona il peso sulla tua nuca, spingi leggermente in avanti il tuo bacino, salto su, abbandono verso il tuo lato destro, spalla che spinge a terra, sguardo, torna, semi circondazione, ritorniamo, salto, centrale, laterale, più sinistro, spalla che spinge a terra, guardo, torna, semi circondazione, continuo ancora per due, ancora bene per uno, lentamente, raccogli l'aria, tornate, inspira, allungati più che puoi, espirazione profonda, virus fritta, alla prossima puntata.